Per il Teramo la prova del 5. 5 infatti sono le partite che serviranno a conoscere il futuro e capire se si potrà pensare davvero ai play-off. Dalla prossima gara ai primi impegni del 2015 il Teramo sarà chiamato ad affrontare gare temibili e tutte fondamentali per mantenersi in alta quota. Contro Pontedera, Savona, Ascoli, Pisa e Grosseto si vedrà il vero volto del diavolo. Eccezione fatta per la gara con i Liguri che navigano nelle zone basse della classifica, tutte le altre partite vedranno Scipioni e compagni affrontare formazioni costruite per puntare senza mezzi termini al salto di categoria. 5 gare e 15 punti in palio per poter sognare e far divertire i tifosi. Con il recupero di alcuni infortunati ed il passaggio al 3-5-2 le cose sono cambiate in meglio con la prospettiva di poter lasciare il segno grazie anche alla ritrovata vena del duo Donnarumma-Lapadura e alla compattezza di una difesa che non prende gol da 429 minuti. A Pontedera domenica prossima ci sarà il vero banco di prova al cospetto di una squadra che in casa non ha mai perso conquistando 15 dei 25 punti totali. All'Aquila c'è apprezzione per le condizioni dell'attaccante Tommaso Ceccarelli. Il giocatore rischia un lungo stop. Per questo la società è pronta a tornare sul mercato per accaparrarsi un bomber di peso. Il nome più gettonato è quello di Francesco Virdis con un passato in Abruzzo nel Pescara e oggi a Monza. Le difficoltà economiche della società brianzola potrebbero portare però alcuni giocatori a svincolarsi e in questo caso Virdis arriverebbe all'Aquila senza problemi. Dal Monza potrebbe accasarsi nel rosso-blu anche il terzino Valerio Foglio, 29enne, con un passato anche nel torneo cadetto. Per l'attacco si è parlato di un ritorno del bomber Francesco Ripa oggi a Castellammare di Stabia. Un ritorno difficile dopo aver fatto partire Ripa dall'Abruzzo, probabilmente con troppa facilità. Da oggi intanto i ragazzi di Zavettieri inizieranno a pensare alla gara casalinga con il fanalino di coda Propiacenza.